La scaramanzia non ci ferma e quindi abbiamo scelto venerdì 17 per l'evento pugliese con lo sciopero e a beneficio dei colleghi giornalisti una riflessione iniziale così almeno poi evitano di chiedermelo 18 volte il diritto allo sciopero è un diritto sacrosanto per lavoratrici e lavoratori che nessuno mette e metterà in discussione è altrettanto sacrosanto il diritto al lavoro, alla salute, allo studio, alla mobilità per milioni di italiani che hanno diritto di prendere i mezzi pubblici, i treni, gli autobus, le metropolitane quindi oggi c'è un diritto allo sciopero esercitato dalle 9 alle 13 ed è giusto che chi ritiene di aderire abbia aderito ma sono orgoglioso dal Ministro dei Trasporti che oggi 20 milioni di italiani possano muoversi liberamente per il Paese perché il diritto allo sciopero di una minoranza non può ledere il diritto alla mobilità di una maggioranza